La Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro si prepara a presentare un'altra novità, ovvero i corsi ITS per i giovani che avranno l'obiettivo di formare le nuove generazioni affinché si colmi il gap tecnologico, soprattutto sotto l'aspetto delle richieste lavorative. Apriremo sicuramente da ottobre degli ITS, dei corsi di formazione per i giovani, quindi potranno specializzarsi in tutto quello che è l'innovazione e verranno sicuramente dedicati al turismo e la cultura che è un lavoro che è stato fatto in questi anni proprio per valorizzare la nostra città e quindi si continua in quella direzione. La CTE in questi anni ha lavorato seriamente, abbiamo fatto più di otto incontri con la cittadinanza dove abbiamo appunto qui al piano di sopra, al terzo piano, c'è un laboratorio dove ci stanno lavorando i ragazzi dove ci sono 15 start-up che lavorano intorno alla CTE ma senza poi chiaramente da considerare il grande lavoro che sta facendo l'Università di Urbino e di Ancona dove appunto sta facendo lavorare anche i ragazzi che si sono lanciati nel mondo dell'innovazione anche con nuove idee e nuovi progetti. Quindi la CTE è stata capace di creare un indotto nella nostra città che forse rimane silente e i cittadini non hanno percepito però vi avviso che 70 imprese del nostro territorio stanno lavorando intorno a tutto quello che è la CTE cosa serve la CTE che in tutta Italia ci sono solo in 13 città serve a fare in modo che anche Pesaro sia sempre competitiva con lo sviluppo economico perché oggi si parla di innovazione, di nuovo lavoro e noi dobbiamo rimanere al passo con tutto ciò che è la tecnologia digitale anche perché nei vari convegni che noi in questi anni abbiamo partecipato sia come assessore ma anche i nostri tecnici emerge in modo anche abbastanza elevato che manca un gap che è quello della formazione in tutto ciò che è digitale quindi i ragazzi anche se sono diplomati o laureati ma hanno la mancanza di tutto ciò che è nel mondo dell'innovazione e tecnologica oggi come appunto sappiamo spesso ripetere che anche entrare nel mondo dell'industria si deve avere la capacità di utilizzare il digitale ecco con questi corsi è un passaggio in più che noi facciamo verso i nostri ragazzi ma anche i ragazzi di fuori Pesaro che potranno in qualche modo formarsi per entrare nel mondo del lavoro mi dicono che chi esce dagli ITS in modo anche molto semplice riesce ad entrare subito nel mondo del lavoro come anche un po' con l'università che abbiamo aperto negli anni passati con i corsi di ingegneria che il 95% trova subito il lavoro appena finito di laurearsi grazie 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 grazie